Ambassar, uno di quei più importanti, quelli affezionati di cuore, Albano qui a Tennis & Friends ha la ripresa ai 10 anni di attività Mi aspetto ai prossimi anche eventi, perché no? Perché partecipare a eventi del genere penso che sia indispensabile, importante e soprattutto salutare 120.000 screening fatti, quindi effettuati ed è un grandissimo pre-mate questo per Tennis & Friends, Giovene Skincare e tutto quanto lo staff che lavora Albano, quanto è importante sottoporsi agli screening test? Secondo me non è importante, è indispensabile, indispensabile perché come ben sappiamo è meglio prevenire che curarsi Sei contento? È stato un anno e mezzo difficile per tutti quanti, stiamo riprendendo, stiamo resettando e stiamo ripartendo veramente da zero Quindi questa è un'edizione Tennis Friends punto zero Ricominciamo da tre, ok? Perché i due anni sono già passati, questo è il terzo Ricominciamo perché l'uomo ha sempre vinto contro tutto, contro le tirannie, contro le dittature, contro le malattie Ha sempre vinto e dobbiamo vincere anche questa volta Non sai perché ti amiamo? Proprio per questo attaccamento alla vita, sempre proattivo, sempre proprio te la tieni stretta, stretta, stretta Visto che Dio ci ha dato la vita, io la voglio rispettare Albano grazie, veramente di cuore, ti abbracciamo tutti quanti, ti amiamo Ciao Ciao